buongiorno a tutti direi che sono le tre trenta due possiamo iniziare questo webinar sulla piattaforma eh di viscom Italia intanto appunto grazie a viscom che ci ha dato la possibilità di utilizzare questa ora eh così per fare una chiacchierata eh tra progettisti eh progettisti che guardano al mondo di viscom e quindi appunto eh grazie a tutti per eh partecipare per ascoltare eh durante il webinar avrete la possibilità di porre eventuali domande utilizzando la chat eh che vedremo appunto al termine e volentieri se ci sarà il tempo risponderemo a tutti eh appunto sabato si è conclusa la versione live di di viscom Italia duemila e ventuno che è arrivata la sua trentaduesima edizione noi abbiamo partecipato eh come design wrapping che è un nuovo magazine eh che che appunto abbiamo presentato e lanciato in questa occasione ehm che vuole dedicarsi e e raccontare quel layer che c'è oggi nell'architettura che non è un layer strutturale eh ma è un layer funzionale a eh rendere eh sia gli interni che gli esterni dell'architettura eh più riconoscibili più accoglienti eh a trasformarli diciamo in in elementi in grado di comunicare eh con le persone che li attraversano e che li vivono in fondo questa cosa di utilizzare le superfici per comunicare è un qualcosa che da sempre fa parte eh della nostra storia ehm e questi racconti sono sempre divenuti allo stesso tempo eh elemento narrativo e decorativo che potevano servire eh ad impreziosire degli spazi ehm oppure per esempio a farli riconoscere farli identificare ehm tutto questo uso del decoro appunto questo eh questo desiderio di 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 creare questo layer aggiuntivo nell'architettura è stato in qualche modo non frenato però si è certamente evoluto più o meno negli anni novanta quando per tutta una serie eh di di coincidenze economiche, culturali, sociopolitiche eh due grandi maestri come John Poson e Silvestrine presero i gli stilemi eh di un movimento artistico che era quello del minimalismo e li fecero diventare uno stile architettonico eh diciamo che da quel momento eh la progetta la produzione architettonica ehm abbandonò tutta questa storia di comunicazione di decorazione che in fondo fa parte del nostro bagaglio storico ehm per appunto creare degli ambienti molto più eh puliti e e questo approccio ehm quasi monocromatico di volumi molto semplici ci ha accompagnato sostanzialmente eh negli ultimi trent'anni spaziando non solo nell'architettura ma anche eh negli oggetti di uso comune piuttosto che eh nella comunicazione in tutti gli ambiti che fanno parte della nostra vita. Eh sul finire degli anni dieci eh però sono iniziati come dire a comparire qualche germe che intaccava questo tutto bianco eh sicuramente anche frutto dell'evoluzione della ricerca tecnologica per esempio di di tutte le aziende che abbiamo incontrato durante viscom eh che hanno sviluppato dei processi di stampa ad altissima risoluzione hanno imparato hanno imparato hanno sviluppato degli inchiostri privi di solvente per cui improvvisamente hanno permesso tutto quello che era la comunicazione della grafica commerciale di spostarsi dalla dalla strada negli interior e quindi diciamo appunto da dagli anni novanta abbiamo avuto questo periodo di tutto bianco tutto pulito tutto perfetto eh che si è poi declinato un po' nelle cinquanta sfumature di grigio più o meno dalla fine degli anni dieci a oggi eh creando comunque sempre un una grande eh raffinatezza eh poi a un certo punto totalmente inaspettatamente ci si immaginava sarebbe stato quello che i tecnici chiamano FAD cioè un fuoco di paglia una moda eh estiva è arrivato questo fenicottero rosa che tutti pensavamo appunto non sarebbe durato invece questo fenicottero rosa è stato precursore eh di di un ritorno di di questo layer decorativo che noi abbiamo visto appunto nel mondo del retail ma anche nel mondo del dell'ospitalità eh inaspettatamente in quello degli uffici in cui poi abbiamo visto anche una comunicazione proprio strettamente funzionale legata a a tutte le prescrizioni dettate dalla pandemia e all'utilizzo appunto di queste eh di queste grafiche anche eh in ambienti più tecnici. Eh ho voluto oggi eh invitare due amiche professioniste che che ammiro e che stimo molto eh perché mi faceva piacere appunto conoscere il loro punto di vista rispetto eh a questo ritorno se di ritorno possiamo parlare di comunicazione eh negli interni e negli esterni dell'architettura. Ehm allora Giovanna Latis la sono appunto Giovanna Latis e Ilaria Marelli che che vi ringrazio tantissimo per essere oggi qui con noi. Eh inizierei da Giovanna Latis che molti di voi certamente conoscono eh un architetto ha lavorato per vent'anni all'interno dello studio di Michele De Lucchi dove ha ha ricoperto il ruolo di team director è stata una dei tre art director dello studio e si è occupata di importanti progetti quali il teatro Franco Parenti, le residenze Lita, ha seguito progetti sia in Italia che all'estero ed è stata anche protagonista di una delle installazioni più apprezzate durante l'ultima Design Week che è stato questo concorso di idee per il teatro Arcimboldi. Allora Giovanna grazie di essere oggi qui con noi e eh inizierei con una prima domanda. Allora vent'anni insieme a Michele De Lucchi eh che per chi lo conosce è assolutamente una figura molto eh molto pura nell'uso della materia e dei volumi. Eh tu come come lo vedi se lo vedi questo ritorno al decoro e comunque questo desiderio di caratterizzare gli interni? Beh intanto grazie a te Paola per l'invito a partecipare a questo webinar e a tutti coloro che si sono collegati e scusatemi per questa voce profonda che ho oggi ma il tempo in Clemente di Milano mi ha colpita e appunto oggi ho la voce di due scorsi giorni non avrei potuto parlare. Eh dunque venendo alla tua domanda. Beh intanto mi è piaciuto molto questo escursus che hai fatto eh degli ultimi venti anni circa e diciamo eh affondando le radici in un passato più più storico ehm sicuramente per chi ha studiato architettura e soprattutto per chi ha studiato architettura a Milano che è una scuola comunque che affonda le sue radici nel eh diciamo nel razionalismo nella scuola milanese che è senz'altro sempre stata molto essenziale eh il tema del decoro è un come dire un punto di riflessione diciamo così ehm questo perché perché lo stile milanese a cui siamo stati abituati dagli studi e io sicuramente sono stata anche un po' immersa per la mia storia familiare venendo da una famiglia di architetti razionalisti eh diciamo non prevede tante licenze poetiche a un decoro fino a se stesso al contrario gli elementi che fanno la qualità dello spazio per perché appunto questo background sono piuttosto eh la qualità spaziale la luce eh i materiali e così via da con gli aspetti più compositivi architettonici che forse quelli puramente superficiali ehm poi venendo a l'esperienza con Michele De Lucchi eh senz'altro lui ehm ha anche molto contribuito nella mia formazione a una sensibilità materica particolare nel suo caso specifico la sensibilità è anche molto legata al legno in queste immagini che stiamo mostrando si vede forse molto l'influenza che appunto lui ha avuto su di me ma al di là di di questo io penso che il ritorno a un aspetto decorativo eh più diciamo autonomo da quello che può essere considerato l'aspetto compositivo generale dell'architettura e degli spazi quindi anche degli interni ehm è molto interessante ed è molto eh segno dei tempi questo perché ehm noi viviamo in una società nella quale la comunicazione ha un ruolo fondamentale ed è una comunicazione a tutti i livelli cioè abbiamo gli autobus ricoperti di pubblicità eh cosa che fino a quindici anni fa era impensabile gli autobus erano verdi i tram erano gialli eh i taxi erano prima gialli poi bianchi adesso diciamo questa moda un po' di rendere comunicative tutte le superfici ha eh in un certo senso coinvolto anche l'architettura e diciamo con qualche distinguo ovviamente nel senso che ehm non vorrei fare di ogni erba un fascio però può essere un lato positivo perché aggiunge un elemento qualitativo e comunicativo ai soliti ingredienti che normalmente si utilizzavano nei progetti quindi hm lo vedo questo diciamo così ritorno al decoro che poi può essere declinato in mille modi come appunto avere in mano una matita in più uno strumento in più con cui esprimere il proprio linguaggio sì infatti nel nostro mondo oggi si tende ad utilizzare termini come eh physical branding eh environmental graphics cioè tutte parole che in qualche modo si allontanano da questa idea di decoro fine a se stesse guardano invece proprio a dei contenuti ehm tu nelle tuoi nei tuoi progetti cerchi degli elementi per far dialogare i i tuoi interni con le persone che poi lo visitano vedevo nelle immagini che vedevamo prima c'erano per esempio anche le opere d'arte che in fondo hanno sempre in qualche modo come dire contribuito ad una comunicazione dell'architettura ehm tu appunto anche per esempio nel progetto del teatro degli arti cimboldi hai fatto questi eh queste grafiche rispetto questi elementi un po' decorativi sempre molto sobri ma come cioè come lo percepisci tu qual è la tua finalità nel tu cerchi di far comunicare in qualche modo le tue architetture o in più un gesto fine a se stesso? No senz'altro ehm è una modalità non so se dire di comunicazione o di percezione cioè a me interessa molto il lavoro percettivo cioè l'aspetto percettivo delle cose ehm per cui la percezione come sappiamo dipende da moltissime cose nel senso dipende anche dallo stato d'animo dell'interlocutore per questo ehm il fatto di creare degli ambienti che abbiano una certa armonia e una certa eh facilità di comprensione predispone chi li osserva a porsi delle domande e a sentire un'atmosfera che magari gli permette poi di capire meglio alcune scelte progettuali oppure semplicemente di sentirsi meglio sentirsi più a suo agio e stare bene quindi l'aspetto percettivo eh è finalizzato sicuramente a un a un comfort rivolto all'utente finale e se vogliamo commentare queste immagini che abbiamo sotto in questo momento appunto il camerino del teatro Arcimboldi ehm questo è proprio l'ultimissimo progetto presentato per il salone ehm e in questo caso siccome l'ambiente era piccolissimo ma una un esercizio di miniatura cioè 12 metri quadri in un ambiente che aveva delle preesistenze come ad esempio delle piastrelle grigie che erano una eredità del progetto Gregotti ehm io ho voluto in qualche modo dare un senso più architettonico a questo spazio cambiando proprio la fisionomia delle superfici molto semplicemente quindi una parte di queste piastrelle è stata trasformata in un ordine gigante come vedete dalle fughe roste che sono state sovrapposte alla alle fughe vere delle piastrelle in questo modo da essere piastrelline di 10 cm x 10 sembrano quasi dei conci di pietra architettonici quindi la percezione di chi guarda eh trasfigura completamente quella che è la realtà della materia e per contro la parete adiacente sulla sinistra è una parete che ha un effetto quasi di foglia d'argento e anche qui quindi è un materiale sovrapposto ad un altro che impreziosisce la povertà e in un certo senso l'essenzialità di quei conci di cui parlavamo prima questo proprio perché l'equilibrio tra una massima essenzialità e un aspetto più ricco più materico a mio avviso dava un comfort nel bagno che che dava maggiore piacevolezza a questo ambiente quindi da una parte la relazione tra le parti forse tutta essenzialità sarebbe stato troppo tutto foglia d'argento sarebbe stato troppo è sempre la ricerca della giusta misura tra le cose in modo tale che si crei un'armonia appunto di base e una capacità di eh legare i diversi elementi del progetto. Allora mentre parlavi a un certo punto hai detto in questo progetto c'è stato un po' diciamo uno scollamento tra quella che era la struttura architettonica e quella che poi è diventata eh la pelle finale e questo mi porta a chiederti un commento su questo progetto in cui come dire questo wrapping che noi non non necessariamente intendiamo come atto veramente wrapping che poi è la caratteristica forse di questo progetto però questa idea che oggi nell'architettura negli interni si possa aggiungere appunto questo layer. Eh ci racconti un attimo com'è andata qui in questo drone. Beh questo è un progetto ehm proprio d'immagine quindi in questo senso eh forte la componente comunicativa che bisognava dare a a questo ambiente cioè l'androne d'ingresso di un palazzo degli anni cinquanta che la sede centrale di una grossa società milanese. Ehm essendo un androne d'ingresso c'erano alcune caratteristiche diciamo spaziali di quegli anni che erano assolutamente da valorizzare. Prima tra tutto il pavimento che è un bellissimo pavimento di marmocca la cazza che oggi sarebbe quasi improponibile per il costo e la fattura. Poi c'era una reception terribile che avrei voluto mandarmi le foto del prima. Questa reception è la prima cosa che uno vede quando uno entra in questo ambiente. Quindi il tema in questo caso per esigenze di velocità di appunto adeguamento al covid e di anche di budget è stato tenere quello che si poteva tenere eliminare tutto il resto ma soprattutto dare una nuova veste diciamo materica a delle superfici che in questo momento non potevamo sostituire. E qui Paola mi è venuta in mente 3M e le pellicole dove ehm come già parlando con te abbiamo abbiamo avuto modo di approfondire sicuramente eh il tema di rivestire con delle pellicole dei materiali facendoli sembrare altri materiali è un tema filosofico per un architetto oggi nel senso che ehm ci si pone il tema del vero falso di quanto è legittimo eh falsificare appunto una superficie e così via. In realtà questo è un interrompo su questo proposito eh segnala appunto a tutte le persone che ci stanno seguendo che sulle pagine di design wrapping eh c'è l'intervista appunto per intero in cui abbiamo un po' sviscerato questa tematica dei dei materiali per cui invito tutti a a leggere appunto questo testo. Scusa vai. Ecco ehm io lo trovo molto interessante il lavoro che ha fatto 3M e con 3M e altre società eh sul tema del dei materiali fotografati soprattutto da quando questa questi prodotti hanno acquistato veramente una qualità ehm diciamo di rappresentazione e anche tattile veramente molto preziosa. Ehm qui apro una piccola parentesi su quelli che sono gli aspetti che hanno influenzato la mia formazione. Tra questi sicuramente c'è il Giappone, il suo modo di costruire e il il suo mondo. In Giappone le pellicole adesive sono diciamo il pane quotidiano e le costruzioni sono costruzioni molto spesso leggere cioè non non sono abituati a parte qualche raro caso monumentale però nell'architettura corrente ad utilizzare la pietra vera, il legno vero o meglio in certi casi ma non sempre soprattutto con una capacità di mescolare quello che è vero e quello che è riprodotto che diciamo confonde in un certo senso eh l'occhio di chi guarda. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh trasformato di fatto dei serramenti in alluminio neri molto pesanti in serramenti con una finitura abbronzata grazie appunto a un'applicazione di pellicole poi sono state opacizzate alcune superfici vetrate e eh è stato creato un mix di superfici di legno vere con eh superfici di legno pellicolate. Questo perché perché eh l'effetto finale creasse di nuovo questo tema di appunto armonia visiva eh che in quell'ambiente potesse parlare la lingua del palazzo quindi degli anni cinquanta in una chiave contemporanea che rappresentasse una società di oggi. Come dicevo prima è stato dunque usato un altro pennello diciamo così per raggiungere l'obiettivo quindi non c'è tanto un aspetto ehm come dire eh di scelta assoluta bisogna sempre usare le super. Infatti voglio scusa dalla dalla tradizione francese delle boiserie eh anche i materiali possono essere elementi come dire caratterizzanti e comunicativi non necessariamente eh quando parliamo appunto di queste pelli che caratterizzano gli interni dobbiamo pensare a delle carte da parati di Laura Ashley voglio dire ci sono tanti per esempio quando vedevamo questa lavorazione del legno di queste pannellature io credo che proprio eh sia nella lavorazione del materiale quello che poi diventa l'elemento caratterizzato. Certo in questo caso senz'altro come anche restando su quest'immagine ehm il tema della posa del parquet forse non è pienamente leggibile ma il disegno con cui è posato un parquet ad oghe in questo caso è un fattore decorativo importante nel senso stabilisce una sorta di passatoia nel corridoio e poi dei tappeti che si sfrangiano lungo le stanze quindi un materiale che potrebbe essere posato in modo molto diciamo uniforme in questo caso è stato usato in modo decorativo per dare da una parte una maggiore qualità grafica e dall'altra anche un quasi un orientamento una direzione sui percorsi. Allora io ti chiederei di restare con noi per poi fare un'ultima domanda finale e eh inviterei invece eh Ilaria Amarelli a a come dire a raggiungerci. Allora io sono molto felice di avere oggi queste due amiche perché dovete sapere che con eh Giovanna Latis ho condiviso i i primi anni di lavoro all'interno dello studio dei Lucchi e in quegli stessi anni eh con Ilaria Amarelli invece abbiamo condiviso l'esperienza prima da cultori della materia e poi da docenti alla facoltà del Politecnico con Andrea Branzi. Eh Ilaria è eh anche lei architetto di formazione eh ha poi però eh anzi ha ha anche non però dedicato parte della sua professionalità proprio al design disegnando dei prodotti che sono diventati delle icone anzi alcuni sono anche stati esposti durante l'ultima design week in questa selezione del design al femminile e ha disegnato eh prodotti che sono appunto in produzione per brand quali Cappellini, Etimo, Foscarini, Nemo e poi tanti altri e parallelamente ha lavorato come art director eh per diverse aziende eh e appunto mi fa piacere averti qui perché mi mi farebbe piacere mh avere così il tuo punto di vista su eh su questa idea di queste pelli comunicative che tornano ed è emblematica questa prima immagine che hai scelto ce la spieghi? No appunto ehm come hai ben introdotto tu eh diciamo arriviamo forse da una formazione a un certo momento che è virata tutto sul minimalismo e su diciamo una palette colori dal bianco al grege beige e no mi è piaciuto mettere come prima immagine questo che in realtà è stato il mio primo lavoro internazionale un negozio che ho fatto quindici anni fa a Tokyo eh che appunto era total white eh un total white studiatissimo per cui il bianco del soffitto era più chiaro del bianco delle pareti di modo che poi sembrasse tutto bianco effettivamente dello stesso tipo però effettivamente pienamente in questa in questa logica e devo dire che ehm non era tanto per me una questione di moda nel senso che un po' mi piace devo dire comunque questo tipo di ehm come dire di architettura e mi sono trovata essere più decorativa quasi per gioco per altri incarichi ehm però una delle cose che mi piace progettare di più è la luce e sia nel prodotto sia poi negli interni degli allestimenti per cui mi capita anche spesso di giocare comunque con il bianco o i toni di bianco proprio per creare questa atmosfera devo dire che a livello culturale eh c'è anche da dire che al di là della formazione politecnico che era abbastanza rigorosa è proprio un po' la cultura della dell'architettura italiana che è molto diversa da quella eh non so di formazione più inglese nel senso noi non siamo nati e cresciuti abbinando carte d'apparati di interior design appunto citavi Laura Ashby ma ci sono tanti brand per cui diciamo uno che ha una formazione da interior design e nei paesi anglosassoni ehm comunque due carte da parati due tappeti e altri tipi di cose li ha visti passare mentre noi eravamo più sull'aspetto proprio architetturale degli spazi dei giochi di pieni e vuoti della luce quindi è anche proprio un po' un discorso di formazione devo dire che eh nel mio caso la formazione ecco questa è la fase ma non è neanche una fase B perché eh alcuni di questi poi sono posteriore ad alcuni che vediamo dopo però ehm a un certo momento della mia carriera proprio in realtà lo stesso anno in cui ho fatto il negozio tutto bianco sono stata incaricata della direzione artistica di una sezione di pitti uomo prima quindi questi sono progetti per pitti uomo e mh in cui in realtà mi è piaciuto molto lavorare sulla luce sul colore eh però sempre abbastanza monofromo per cui quello grande che uno ancora oggi dei miei preferiti si chiama profondo rosso quindi ho giocato tutto sui toni del rosso sulla luce rosso eccetera eh l'altro più piccolo sui toni del nero sui toni delle quello sopra è tutto in realtà lo spazio era tutto bianco erano solo le luci colorate un po' rubando da Dan Flevitt un po' l'idea e quello sotto invece era su questi toni che invece è molto recente sui toni comunque del blu e mh questo perché in realtà nella mia cioè io lavoro prevalentemente diciamo anche sugli interni con le aziende quindi sono magari brand di moda o o anche brand non so adesso sto facendo i progetti per elettrox però in generale con con delle aziende non con dei privati per cui il tema un po' della rappresentazione di sé è uno dei temi e del del physical branding è proprio un tema fondamentale ovviamente si fa un interno privato c'è un physical branding di quello che la coppia vuole esprimere nei propri interni però ovviamente è è un lavoro un po' diverso e quindi sugli interni di questi spazi moda diciamo il fatto di lavorare su delle di qualcosa di molto eh importante era a livello di di impatto anche emotivo era abbastanza fondamentale eh a un certo momento l'incarico da pitti uomo è passato a pitti bimbo e in un certo senso naturalmente eh diciamo il tipo di racconto che sull'uomo poteva essere più sobrio su sul bimbo è diventato anche un po' più gioioso giocoso no? Ehm e qui l'ho sperimentato in varie forme ad esempio in questo caso eh mi piace ecco mi piace quando faccio le finte diciamo che siano delle finte dichiarate quindi in questo caso in uno dei corridoi ho ricostruito eh i portici di Bologna quindi chiaramente tutte le foto sono dei trampleo il scala una uno eh quindi c'è l'elemento fisico che il vero tavolino la vera pianta il il vero decoro di un diciamo di un portico però chiaramente poi tutti gli sfondati sono sfondati fotografici però eh è abbastanza chiaro cos'è vero cos'è finto ma comunque c'è questo c'è questo effetto di di diciamo di essere eh inseriti in un ambiente quasi reale e ho messo degli altri esempi in realtà per loro visto che hanno sia l'edizione stiva che invernale penso di aver fatto proprio una trentina di allestimenti per cui ogni volta era anche un po' da reinventare il tema e ogni volta ecco il proprio la stessa manifestazione ha un tema generale per cui il progetto doveva anche abbinarsi a quel qual era il tema generale della manifestazione per cui questo è un altro esempio in cui ho usato i temi grafici quindi la carta da parati e in questo caso invece le piante sono finte diciamo disegnate la carta da parati è molto effetto bambino e quindi un aspetto un po' grafico cartoon mentre te vai a quello dopo questo qua è stato il mio massimo di tripudio di di grafica e in questo caso questo progetto era uscito perché proprio il tema generale totale globale della manifestazione che di solito è un po' generico tipo colore giardino eccetera in questo caso era ping pong che era già declinato anche negli altri padiglioni con i tavoli da ping pong con una serie di cose visto che nel campo bambino in questo caso io diciamo seguo il padiglione che è un po' la moda un po' più chic elegante e quindi in questo caso ho rubato delle immagini da dei quadri storici la bambina di velasquez penso sia riconoscibile e diciamo con appunto aggiunto in trattata grafica con la nostra racchetta da ping pong quindi ho creato tutte delle scene all'interno di questo palazzo che in realtà in questo caso è sono delle foto che ho fatto una villa qui di Como quindi poi ricostruite e riadattate come pareti allo spazio per dare questa idea di come dire giochi di classe diciamo un po' di un'elite di un'elite del tempo passato quindi diciamo questo è senz'altro il mio tema più decorativo se faccio un'analisi del mio percorso diciamo io non nasco così nel senso che di mio tendo a fare delle cose anche più minimal però da un altro punto di vista l'occasione di avere dei clienti che diciamo ti spingono anche in questa direzione mi ha consentito di di sperimentare di capire anche banalmente delle tecnologie di stampa delle soluzioni delle possibilità che normalmente se fai come dire il total white o il total grege o torto non hai modo di non hai modo di sperimentare per cui senz'altro è stata un'esperienza interessante anche devo dire è anche più difficile nel senso che devo dire che è più facile abbinare il bianco al legno che abbinare una paletta di 40 colori grafiche eccetera in una maniera per cui comunque sembri interessante emozionale non sembri solo un come dire un pastrocchio di cose messe assieme anche perché devo dire invece passando un po' al lato prodotto io come tu ricorderai all'università ho lavorato i primi anni della mia carriera con Ezio Manzini che non lo definirei un diciamo non lo definirei minimal ma è lui stesso che lavorava sul colore sull'esuberanza mi ricordo una delle prime suggerimenti che mi diede come designer era al massimo abbina due materiali o due colori forti di più è un problema no per cui sentirei di fare una perfetta equazione Ezio Manzini sta Ilaria Marelli come Michele De Lucchi sta Giovanna Latis cioè l'imprinting direi che è stato dei più rigorosi in assoluto ma secondo te questi questi ambienti per esempio che hai progettato per pitti oppure un uccellino mi ha detto che stai disegnando delle racchette da paddle quindi l'ambito sportivo cioè secondo te sono degli ambiti che tendono a osare di più che hanno più coraggio e quindi si spingono un po' di più oppure è perché c'è una tematica magari anche di temporaneità voglio dire il eh e anche di cultura io credo che il tutto bianco sia durato trent'anni anche perché siamo passati attraverso alla crisi della Lehman Brothers e a una crisi di tutto economica di tutto il mondo occidentale come dicevi fare un progetto tutto bianco è più semplice da parte del progettista perché è facile anche da spiegare al committente in qualche modo il committente ha l'idea di stufarsi meno allora una cosa che a me ha sempre colpito è che spesso si predilige il tutto bianco perché è più luminoso no poi però se pensiamo ai decori della villa di Pompei fatto con rosso Pompei ed erano illuminate con delle fiaccole perché non esistevano certo le luci che abbiamo noi oggi no quindi secondo te da cosa poi anche questa è la domanda che vorrei riporre dopo anche a Giovanna che cos'è che frena nell'utilizzo appunto di di questi elementi decorativi e che tutto sommato spinge ancora oggi come dicevi verso le tonalità di grigio di beige ma da una parte sì devo dire che il fatto di in alcuni miei lavori di poter osare di più è vero che perché da una parte il settore moda sportwear e in questo caso anche degli allestimenti nel senso sono cose che durano pochi giorni quindi punti più all'effetto anche devo dire un po anche l'effetto wow il coinvolgimento negli ultimi anni poi c'è stata anche questa deriva del dell'instagrammabile per cui quasi devi quando fai dei soprattutto i progetti di exhibit devi farli quasi pensando a un formato quadrato della foto perché poi è quello che viene bene no e e senz'altro su instagram e sui canali di comunicazione il colore o qualcosa di particolare ha più successo invece viceversa che il total white quindi non so se questo improvvisamente cambio verso il decorativo verso colore anche un po come dire pinterest e instagram style oltre che perché è un diciamo è una nuova direzione di a livello di gusto dall'altra un po cioè non sono per il grege il bianco to cure però è anche vero che come dire se io vivessi in una cosa così come questa che vi ho mostrato ecco dopo magari un po di settimane un po troppo però come dire da questo al total white ci sono infinite sfumature di colore di decori di e mi sembra che però in generale diciamo gli studi di interior decoration chiamiamo che adesso sono più un luogo in realtà lavorano molto col colore con le decorazioni le carte da parati adesso sono come dire molto cioè io per anni la carta da parati era innominabile no forse ne avevamo noi un ricordo di quando eravamo piccole di quelle cose un po anni 70 un po ecco e quindi l'abbiamo voluto totalmente rimuovere mentre adesso si vede comunque più sulle pagine delle riviste e negli eventi che nelle case diciamo che si realizzano però mi sembra che in generale anche a livello di committenti privati sì magari non ti fanno tutta la casa così però una stanza un po particolare una parete particolare eccetera la chiedono quindi diciamo che il total white to cure non è che sia sparito cioè anche giusto che c'è una nicchia di amanti di quel tipo di filosofia ma chi amava il colore che per anni è stato un po ha dovuto reprimersi adesso invece ha modo di esprimere diciamo una sua una sua visione ma anche perché la cosa curiosa che nella società contemporanea no in cui in qualche modo si rifugge da degli interni decorati perché ho paura che poi mi stufo e poi abbiamo delle persone totalmente tatuate no quindi come dire si decorano sulla pelle che per antonomasia il tatuaggio un qualcosa di di molto decorativo che hai sempre sotto gli occhi e di indelebile e poi però c'è questo strano meccanismo che invece nei luoghi che si abitano che si vive sembra che appunto questo decoro in qualche modo possa stufare perché poi palazzi come palazzo te amanta o voglio dire il rinascimento in italia ha prodotto un'infinità di palazzi iper decorati che sono durati tantissimo no quindi hanno anche un loro fascino io adesso sono riduce da una settimana di shooting in questa villa che si chiama villa la magia vicino a pistoia che tra l'altro non è diciamo appunto non è palazzo te insomma una villa minore però insomma con gli stucchi coi decori eccetera dovevamo fotografare un nuovo progetto di collezione di letti ecco lo metti lì e già sembra come dire assume tutto un altro tutta un'altra forza tutto un altro fascino che se l'avessi fotografato sul set due pareti bianche con lo scontornato insomma per cui e lo guardavo proprio hai degli abbinamenti anche di di colori di superfici di materiali che in effetti come dire ripresi oggi in maniera contemporanea sono assolutamente attuali magari non il putto con lo strascico eccetera però diciamo proprio se guardi i colori del putto e il colore dello sfondo eccetera li ripensi in un interno sono colori che proprio stanno bene insomma per cui è proprio un po da una parte da rieducarci noi come architetti nel senso a in italia forse c'è anche questa divisione tra l'architetto e l'interior decorator in cui si guardava l'interior decorator come la serie a2 la serie vino per cui in realtà cioè l'imparare sugli interni a lavorare su colore decorazioni è proprio qualcosa che va che va studiato imparato bisogna aggiornarsi eccetera quindi dobbiamo rifarci un po una cultura un occhio e poi saperlo anche raccontare ai clienti perché tante volte appunto banalmente mostrando degli esempi mostrando delle soluzioni riesci anche a fargli capire che in effetti una determinata soluzione magari che gioca sul colore sulla decorazione può avere può essere più coinvolgente di quella invece della più facile io più che total white veramente ultimamente total grege tortora ormai quando sento torta un attimo di difficoltà ma in effetti voglio dire a me capita spesso anche con gli studenti al politecnico di di sottolineare la differenza tra un artista e un architetto e la grande discriminante è che l'architetto lavora per un committente quindi il tema di raccontare l'idea di progetto di trasmetterle di convincere è sicuramente una parte molto molto importante ed è forse più semplice far digerire qualcosa di semplice lineare che non un qualcosa di più elaborato e giovane ancora con noi magari le chiedo se accende anche lei la telecamera così facciamo un'ultima chiacchierata a tre con le che mi ha dato la mia dicendo le ragazze riteniamoci ancora ragazzi no allora io volevo chiedervi questo Ilaria ha accennato al tema appunto di Instagram no gli interni oggi devono essere eh insta worthy cioè devono meritare di essere pubblicati eh Giovanna è da poco progettato un camerino per un teatro che è sicuramente come dire un qualcosa che fa parte dell'immaginario scenografico eh forse stiamo assistendo un po' a una convergenza tra quello che era l'interior design del cinema delle scenografie e quella che era eh invece l'architettura pura cui accennava anche Giovanna con questa impostazione razionalista che 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 in fondo noi architetti che abbiamo studiato a Milano ma credo anche abbastanza Venezia Torino cioè era abbastanza come dire un'impostazione forse generazionale oltre che locale eh secondo voi che direzione prenderemo cioè da un lato appunto abbiamo degli interni che sono fatti semplicemente come fotoboot cioè con con la mission di poter fare le foto ehm o di fare il video le ragazzine il video su TikTok e dall'altra invece c'è ancora dei lucchi ci insegna la ricerca dei materiali genuini ai volumi eh prima Giovanna poi Ilaria secondo te da che parte stiamo andando? Posso parlare più per un auspicio che per una predizione nel senso mi piacerebbe che stessimo andando in una direzione in cui stiamo costruendo un modo di oggi di fare le cose dove sicuramente il tema scenografico diventa importantissimo anche per questo aspetto appunto della eh diciamo fotografabilità e quindi di essere sempre un po' in una scenografia però questo è un tema che mi 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 intriga e mi interessa soprattutto perché il tema della scenografia è un come dire un terreno di sperimentazione in una scenografia teatrale si possono usare delle cose che forse per un cliente non si oserebbero e per me questo è stato l'esperienza del camerino cioè sapendo di operare in quell'ambiente anche se in maniera permanente cioè non era un'installazione contemporanea ma il camerino resterà per gli artisti ho deciso di provare un po' di soluzioni anche abbastanza estreme che forse appunto davanti a un committente unico non so avrei esitato un attimo di più però questo per trovare un linguaggio che possa esprimere un diciamo un sentire di oggi che oltre a tutte queste eredità che abbiamo citato quindi la qualità dei materiali e la qualità dello spazio la qualità della luce abbia anche un'apertura a questa temporaneità da un lato e eh sperimentazione verso appunto eh il colore così via e tutta una serie anche di di trattamenti superficiali più o meno eh veri o falsi ma questo perché non per perché fra un anno invece non si farà più così cioè mi sembra più pericoloso l'aspetto in cui periodicamente si tornano a citare delle epoche passate che eh magari degli esperimenti non sempre ben riusciti ma del tutto autentici cioè quando io vedo dei locali oggi che scimmiottano al cento per cento quello che si faceva negli anni cinquanta mi preoccupo sinceramente oppure successivamente quello che ha fatto Memphis o quello che ha fatto non lo so il postmodernismo cioè questa necessità come nella moda di ricitare sempre qualcos'altro lo trovo un po' sterile mentre una sperimentazione che magari osa ma scrive una nuova pagina di storia mi sembra che possa essere mh più come dire più spontanea e forse anche più divertente da 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 vivere no quindi hai in questa direzione qua hai una visione storica fatta più come una linea che non come un cerchio voglio cercare di andare avanti fare alcuni elementi un conto è riprogettare come si faceva perché se no torniamo ai mobili in stile è vero che il salone del mobile per tre quarti ha i padiglioni del mobile in stile cioè rifatti come si facevano a Versailles e così via però io lì faccio un po' più fatica diciamo mi sento sempre di dover mettere qualcosa di più e di nuovo nel quello che si fa anche attingendo alla storia. E secondo te Ilaria cosa questa andiamo avanti o torniamo indietro cioè come vedi questo? Adesso poi c'è sullo sfondo questo che se vuoi tornare indietro ma va bene era un'operazione un po' più ironica. No ma no assolutamente perché poi invece ci sono elementi voglio dire avessi messo delle sedie in stile ma invece poi ci sono degli elementi che guardano fortemente al anzi lo trovo che si il bello di questa tua installazione è che si coglie molta ironia che è forse quell'elemento che fa cascare l'asino no? Come diceva Giovanna quando poi uno scignotta tu cure invece non sa. No io ecco diciamo anch'io viceversa mi accorgo al di là del mobile stile adesso perlomeno nel settore design c'è un po' proprio questo ritorno degli anni 50 dell'art deco eccetera quindi in effetti vedi degli stilemi che sono un po' passati che vengono ripresi perché comunque c'è questo danno questa idea di ricchezza di sofisticatezza eccetera eccetera quindi anche io su quello non mi trovo diciamo mi piace anche che negli interni magari ci sia il pezzo storico ma di ridisegnare oggi con con diciamo un pezzo che avrei potuto disegnare negli anni 50 anche no perché non saremmo nel 2021. Viceversa appunto il fatto che adesso devo dire ci siano più lo vedo anche nelle giovani designer ci sia quella un po' più chiamiamo alla Morrison Jasper Morrison nel senso pulita eccetera c'è quella estremamente decorativa c'è quella via di mezzo mi sembra interessante nel senso mentre ci sono stati degli anni in cui c'erano come dire un filone oggi mi sembra un momento in cui ci sono diversi filoni anzi nel mondo del design forse questo decorativo è anche uno di quelli più almeno più pubblicati perché ovviamente più fotogenico fa più scene eccetera eccetera però comunque permangono altri tipi di filoni soprattutto quando parli con le aziende va bene l'oggetto iper decorativo magari per la copertina del decor però poi se devo produrre vendere far dell'altro lavoriamo anche su altri temi uno dei temi però che mi sembra interessante è anche il tema diciamo della sostenibilità per cui che adesso sembra calato qui così però effettivamente è un tema un po' di svolta nel senso che sia sul prodotto che come lo costruisci sui materiali eccetera cioè è un tema che svolta abbastanza come si costruiscono i prodotti il tipo di prodotti anche il tipo di finiture per cui senz'altro è una direzione che ci darà delle indicazioni a livello di innovazione a livello del come dire dell'universo materiale che ci troviamo intorno insomma per cui sì dei prodotti magari che facciamo oggi sostanzialmente sono comunque diversi in maniera innovativa e a livello di visivo a livello tattile a livello di qualità dei materiali da quelli che si facevano diversi anni fa per cui è senz'altro un come dire un tema di lungo termine perché appunto cioè io ci ho fatto una tesi vent'anni fa con manzini per cui non è proprio il tema di cioè adesso è molto cool ma diciamo è un tema di lungo termine eh che però adesso finalmente sta avendo anche riscontri sulla sull'universo materiale che ci circonda. Abbiamo una domanda ci chiedono eh come si inseriscono in questo tema interior designer come Fabio Novembre e Karim Rashid eh nonostante le tendenze si sono sempre caratterizzati per il loro stile molto carico eh non so se volete rispondere rispetto a quello che ha detto Giovanna forse non hanno studiato a Milano no Fabio ha studiato a Milano in realtà allora ha avuto un atto di rigetto in realtà la cosa che trovo interessante del loro lavoro benché non mi ci riconosca ovviamente affatto è proprio l'essere una voce diversa in questo senso io trovo che hanno una grande originalità nel senso che hanno scelto un filone l'hanno perseguito anche costantemente nel senso è un lavoro che è un filo conduttore no ehm non è un prodotto fatto in un modo un altro in un altro non sono passati di palo in frasca mi sembra che hanno una linea creativa tutta loro per cui hm non si tratta dal mio punto di vista di eh essere più o meno affini a un a una tipologia o l'altra ma di riconoscere diciamo un'originalità creativa che io eh riconosco in pieno nel senso è una voce diversa e in questo senso valida no? Sì mi sento di fare un commento eh che nasconde la mia stima e ammirazione per il vostro lavoro di entrambe eh credo che quando si lavora per dettagli eh tu Giovanna nel tuo progetto avevi quella lavorazione del legno la posa del parquet eh Ilaria citava l'utilizzo della luce cioè quando l'elemento decorativo è molto sottile e molto delicato eh ci vuole anche una un occhio forse più colto e più preparato per coglierlo no? Forse elementi decorativi più dirompenti come posso è come può essere il codice estetico utilizzato da fammi novembre Karen Rashid eh non so sono più per citare la Simona Ventura un po' più gigioni cioè eh riescono a vincere più facile no? Eh e quindi forse in questo senso eh il fare un po' fatica a trovare quell'elemento distintivo è anche poi sinonimo di cultura non credete cioè io non so nel senso io tra l'altro ho lavorato da giovinetta proprio sia con Rashid che con novembre perché quando appunto seguivo progetti per tappellini si sono fatti anche dei progetti con loro e devo dire che anche a me diciamo a livello forse di stile non è non è il mio però entrambi sono due geni della comunicazione nel senso che hanno proprio cioè diciamocelo come nel nostro lavoro bisogna essere un po' tuttologi e come dire saper fare il nostro lavoro saperlo comunicare saper essere presenti diciamo a raccontarlo e così via e se da una parte come dire ho lavorato con Saper Morrison che dovevi forzare a parlare e tendenzialmente diceva sì no però a livello come dire come dici tu di dettaglio del progetto era geniale da questo punto di vista eh io loro quando li ho conosciuti non erano neanche così famosi ho detto questa è proprio una marcia in più a livello di quando si dice lo storytelling il racconto del progetto hanno davvero una marcia in più per cui ehm a livello di di stile di estetica non posso cioè non mi riconosco neanch'io però eh cioè un po' come dire nella musica pop la star più della musica pop magari non è il mio tipo di musica però eh è stato bravissimo arrivare lì ecco perché comunque tra mille persone che potevano essere star della musica pop probabilmente va qualcosa in più a livello di comunicazione a livello di di racconto di di essere di giovane come dici tu nel senso è un genio dell'essere di giovane sì ma poi in più Paola questo rende particolarmente importante il il vostro lavoro di giornalisti e dei giornalisti in generale nel senso che eh i progettisti possono fare quello che che sentono ovviamente devono avere la capacità di interpretare i tempi di interpretare i committenti soprattutto e così via poi sta anche alla critica diciamo dare i giusti pesi perché chiaramente eh è vero che ci sono delle situazioni molto più wow che a volte sono di qualità a volte non lo sono affatto e a volte sono meritevoli di durare nel tempo e altre no e ci sono situazioni più magari difficili da scoprire che quindi necessitano più sforzo dal punto di vista di chi deve poi divulgare ehm quindi non siamo purtroppo noi a poter a poter dire in questo caso ehm come dire chi merita o meno di andare avanti certo a volte c'è una difficoltà far capire alcune qualità che uno dice ma come può essere così importante questo dettaglio invece magari per noi lo è moltissimo come le nuance di colore cioè per fortuna adesso esistono delle palette meravigliose non solo di grandi case come la che era colmora per il camerino io ho lavorato con una piccola azienda di vernici che si chiama colorificio san marinese che fa una bellissima ricerca eh appunto su sulle tinte sulle su anche su come dire l'aspetto tattile no delle vernici e spiegare queste cose a un cliente non sempre facile perché vede una palette di dieci bianchi che dice va bene bianco no cioè anche su queste cose a volte ci vuole una cultura poi nel chi ti ascolta per seguire un filo conduttore che sembra un po' estremo ehm no io trovo rispetto a quello che dicevi tu che ehm sì ci sono delle soluzioni magari più vistose come nella moda no è ovvio che se uno è il tutto vestito di paese si vede di più che uno tutto vestito di nero dipende quello che piace poi a un certo punto sta anche un po' appunto nel chi guarda nel fare le distinzioni va bene allora siamo arrivate in fondo alla nostra chiacchierata eh io vi ringrazio tantissimo per aver dedicato a me a tutte le persone che ci hanno ascoltato la vostra esperienza e la vostra bravura nel raccontare il progetto come dicevo sulle pagine di design wrapping c'è eh l'intervista che abbiamo fatto un paio di settimane fa è stata pubblicata settimana scorsa a Giovanna Latis e se ci seguite sui social nelle prossima nei prossimi giorni eh pubblicheremo invece un approfondimento con Ilaria Marelli grazie ancora grazie mille e grazie a Viscom Live a Viscom Italia che appunto ci ha dedicato questo spazio e speriamo di avere altre occasioni per parlare di questo e di altri temi grazie mille grazie arrivederci arrivederci